un norma progetto ma le prendiamo Kanka Rider dov'è qua il ma dove è Babbo Natai? oh yeah è arrivato a Bombazza è arrivato Babbo Natai e regali? no no eh ho perso ha il pacca bravo se vedeva morosa mi dice che sto meno uno in giardino ma che se lo piano si parla via e 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 guardate i nostri video vedrete sempre una persona che fa la cacca a parte oggi a parte oggi a bombazza allora e con questa notizia bomba a bombazza oh bella raga a bombazza sempre e e